Con l'evento Naturalmente Rosa si fa il punto sulle sfide e le opportunità del Cerasuolo d'Abruzzo, un dialogo aperto per parlare delle tante sfumature del Rosa con Legambiente e l'Associazione Italiana Sommelier, l'11 maggio nella riserva naturale Bosco di Don Benanzio a Pollutri, nel Chietino. Valorizzare la nostra referenza, il Cerasuolo d'Abruzzo, per noi un vino di eccellenza del territorio, un vino che va professato, un vino che va raccontato, perché se ne deve sempre più raccontare per farlo conoscere e apprezzarne al meglio. Per noi rappresenta un vino di traduzione e non ci possiamo insimere dal raccontarlo anche con un bellissimo evento dedicato come quello di Naturalmente Rosa. Si parla quindi di agricoltura, si parla di un'agricoltura che sia sana, giusta, etica e sostenibile. Si parla del rapporto tra ambiente e territorio, come non ci sia nessuna contrapposizione appunto tra quella che è la transizione ecologica, la transizione energetica in particolare, e il sistema produttivo dell'agricoltura. Ciò che è giusto quindi per la transizione è giusto anche per garantire quindi lo sviluppo del settore, perché il settore possa affrontare quindi al meglio la crisi climatica, le emergenze che la crisi climatica pone, e noi lo facciamo proprio raccontando anche esperienze come questa, da cui ad esempio attraverso il settore dell'anoturismo vengono occasioni di sviluppo per il territorio.